Sto giorno è una situazione che ha avuto quasi bassissima, praticamente, ma è tre settimane di mezza giornata, è partai, è scusa, è diverso, è come se fossero dieci giorni, no, ma tutti, 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 tutti lo fanno pesare. Fatti mezza giornata. Io ti faccio pesare, infatti voi lavorate tutto il giorno. No, assolutamente no. Allora, potete essere anche voi un po' di tolleranza. Ma non è che diceva che scusa, ti posso tutto a base. Mi chiamano. No, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no.